Buongiorno, sono Laura Antichi, oggi vi voglio mostrare come creare in Google Classroom un compito con griglia. Andiamo in lavori del corso, in crea con il più, compito. Il titolo del compito sarà fake news. Adesso metto le istruzioni su cosa dovranno fare gli studenti. Descrivi in un breve testo quali siano le più rilevanti fake news sul coronavirus. Proponi almeno tre link di approfondimento, spiega con quali dispositivi hai fatto la tua ricerca e come eventualmente intendi condividere i tuoi risultati per discuterli. Quindi il compito è stato creato, aggiungo una griglia. Più griglia. Mi chiede se voglio creare una griglia, riutilizzare una griglia o importare da fogli. Crea griglia. Darò un titolo a criterio alla griglia. Il titolo, il primo titolo sarà esempio, utilizza ed organizza le risorse web. Descrizione del criterio, scriverò Utilizza, scriverò capacità di aggregare risorse. Attribuisco un massimo di 25 punti. Metto un titolo del livello avanzato. che è il livello più alto e metto una descrizione del livello. Sa esplorare le risorse web. Sa esplorare le risorse web in modo autonomo ed organizza le informazioni con coerenza e ricchezza. Crea collegamenti. aggiungo un altro criterio. Aggiungo un altro criterio. Un altro livello. Appunti richiesti in questo caso saranno 20. appunti. Il titolo del livello è intermedio. Do una descrizione al livello intermedio. Sa esplorare le risorse web in modo autonomo e sa organizzare le informazioni con linearità. Aggiungo un altro livello. Aggiungo un altro livello. I punti richiesti che può ottenere sono, esempio, 15. Il titolo del livello è base. Do una descrizione ora del livello. Esplora alcune risorse web e organizza le informazioni con semplicità senza creare collegamenti. Aggiungo un ulteriore livello. Ne aggiungo 4. Se ne potrebbero aggiungere nella letteratura internazionale da 3 a 5. Noi ne aggiungiamo 4. I punti da attribuire in questo caso sono 10. Il titolo del livello possiamo mettere iniziale. Diamo ora una descrizione anche a questo livello. Per esplorare ed organizzare le informazioni ha bisogno di essere guidato dal docente e ha qualche difficoltà a procedere in modo autonomo. Quindi il primo criterio è stato compilato. Andiamo ad aggiungere un secondo criterio. Il titolo sarà Gestisce le informazioni in senso critico. La descrizione del criterio sarà presenta le informazioni valutandole. I punti richiesti 25. Il titolo del livello, anche in questo caso, avanzato. Sa gestire e analizzare le informazioni in senso critico producendo esempi e interrogandosi sui problemi. Adesso vado ad aggiungere gli altri livelli. Quindi l'intermedio, il base e l'iniziale. Ho aggiunto altri criteri per arrivare a un totale di 4 criteri. Allora potete vedere che il punti totale che può essere acquisito dallo studente è di 100 punti. Avendo attribuito per ogni criterio, come vedete, punti massimo 25. Ora vado a salvare la griglia. Non mi resta che assegnare il compito con griglia. Assegna. Scelgo quindi la classe Sassari. Potrei scegliere anche altre classi per assegnare lo stesso compito. Lascio Sassari. Tutti gli studenti, oppure uno studente particolare, in questo caso tutti gli studenti. Se avessi voluto fare una prova inclusiva, quindi dedicata soltanto al recupero degli apprendimenti di alcuni studenti, avrei selezionato gli studenti specifici. Vedete che questa griglia, in particolare, mi porta al raggiungimento massimo di 100 punti. Potrei mettere una scadenza, quindi dare una scadenza per il compito. Poi sicuramente metterò un argomento e posso mettere come argomento crea argomento compito. A questo punto ho finito e vado in assena. Mi dice che il compito è stato creato, quindi Take News è stato creato. Mi rimane la scadenza domani. Scadenza domani la vado a togliere. Nessuna data di scadenza. Risalvo. Ok. Quindi vedete che mi è stato presentato il compito qui, tra i compiti Take News, che ha una griglia con 4 criteri e 100 punti totali per l'assignazione. Quindi mi fa vedere assegnate 3 e poi che è stato assegnato 3. Bene, ho concluso questa parte. Ora vado a vedere se qualcuno ha consegnato il compito. Vedo che in Take News una persona ha consegnato 3 assegnate. Quindi vado su consegnato. Prova studente che ha consegnato le sue Take News. Apro. E vedete qui la prova dello studente. E ora ho la possibilità di dare un voto seguendo i criteri che avevo inserito. esempio. Posso utilizzare, vedete qui alla vostra destra, che ho la possibilità quindi di, per ogni voce che avevo messo nella griglia, di segnare il voto. Faccio a caso, mettiamo 20 punti intermedio per utilizzare e esplorare le risorse web in modo autonomo. intermedio 20 punti, mettiamo quindi siamo arrivati a questa valutazione per quanto riguarda i primi punti. poi mettiamo per gli altri criteri, mettiamo 15 punti ad esempio, l'altro che usa dispositivi mettiamo 20 punti e per l'ultimo che produce contenuti mettiamo 10 punti. Quindi ho valutato, vedete comodamente ricorrendo a questo strumento messo a disposizione nella parte destra della finestra, ho potuto valutare il compito. la valutazione, la bozza della valutazione è 70 su 100, potrei anche correggere questa valutazione se volessi attribuire dei punti in più rispetto a quelli che mi sono stati restituiti. e quindi vado in restituisci. quindi lo studente ha raggiunto questo livello. restituisci lo studente riceverà una notifica e potrà consultare il voto ricevuto. lo studente si chiamava prova studente. restituisci quindi quindi gli rimando il compito corretto. ecco come è possibile come è possibile quindi creando delle griglie di valutazione avere questa possibilità di 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 correggere facilmente i compiti in Google Classroom riassumendo creando compiti con griglia di valutazione in Classroom lo studente lo studente riceve insieme al compito la griglia con i criteri di valutazione con i quali sarà valutato. il docente poi quando correggerà il compito potrà ricorrere alla barra laterale e con facilità valutare l'elaborato spuntando il livello per ogni criterio considerato nella griglia potrà lo ripeto correggere comunque il voto prima di restituirlo naturalmente io l'ho già restituito da qui se pensa di dover aggiungere dei punti allo studente in più per l'accuratezza o per qualche altra ragione o potrebbe anche voler togliere dei punti allo studente se per caso si accorge che ha copiato per la le che si 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 Grazie a tutti.